Giornata particolare quella di domenica 19 giugno ad Asso, una mostra a mercato con laboratori didattici dedicati a uno splendido fiore, alle orchidee, l'Orchid Show, organizzato grazie all'impegno di Asso Incontra, qui rappresentato dall'amica Enrica e da Mauro. Grazie per essere nei nostri studi, tra l'altro con alcuni meravigliosi esemplari di orchidee. Allora Enrica vogliamo introdurre quella che sarà la giornata di domenica 19 giugno. Allora Asso Incontra in collaborazione con Alao, Associazione Lombarda Amatori Orchidee, organizzano appunto questa domenica a 19 giugno dalle 10 alle 18 presso la sala consigliare di Asso, l'Orchid Day Asso, una giornata dedicata, cioè una mostra a mercato dedicata all'orchidea. Primo evento di questo tipo in Vallassina e penso anche in Lombardia. Asso Incontra sarà presente con un piccolo servizio ristoro, con aperitivi, stuzzichini e poi sarà presente anche con una visita guidata denominata Tre Passi nel Borgo dove ci sarà una passeggiata per le vie di Asso alla scoperta della sua storia. L'appuntamento è alle 15 presso il piazzale del municipio da dove partirà questa visita guidata. Ecco la mostra a mercato in municipio però c'è anche un programma intenso, la giornata verrà così contrassegnata da una serie di appuntamenti e manifestazioni. A fianco a me è presente Mauro Rappa che sarà uno degli espositori presente nella giornata dedicata alle orchidee. Passo la parola a lui. Ecco Mauro tra l'altro tesserato ad Asso Incontra, quindi un amico dell'associazione, appassionato di orchidee. Come nasce questa passione per le orchidee? È nata dalla maniera più semplice che capita quasi a tutti, comprando qualche orchidea da mettere sul davanzale finché ci si incuriosisce, mia moglie ha iniziato poi ho seguito, e ci si incuriosisce. Le orchidee sono delle piante più antiche del mondo, tra le più antiche. Ci sono 30.000 famiglie di orchidee e sono presenti dal paleolitico. Questa orchidea qua è un'orchidea che esisteva già ai tempi del paleolitico, quindi ai tempi dei dinosauri, per farvi capire, e come vedete ha un fiore molto appariscente perché a quei tempi non esisteva ancora il profumo, quindi il fiore non profuma assolutamente di niente, ma è appariscente. L'orchidea è stata la prima pianta che ha capito che invece di distribuire il polline con il vento era meglio affidarsi agli animali, perché gli animali possono viaggiare molto di più, quindi possono portare i semi in un altro paese, invece che in pochi metri a distanza. Quindi le orchidee sono piante che con l'evoluzione si sono specializzate per un insetto particolare, quindi ci sono tantissime orchidee e orchidee che assomigliano a un'ape, per fare in modo che un'altra rappe vada a cercare di fecondarla. Orchidee che hanno un odore speciale, come questa orchidea qua, angrecon, che potete dopo odorarla, sa di cocco. Ci sono orchidee che sanno di altri aromi, che richiamano i feromoni di una femmina, di un altro insetto, e quindi sono veramente speciali, sono affascinanti perché ci sono di tutte le forme, crescono a tutte le latitudini, quindi dai paesi freddi, diciamo, non con il ghiaccio, con la neve, però da 4 gradi fino a 30 gradi in mezzo all'Amazzonia possono crescere le orchidee, tipo queste orchidee qua, quelle che noi siamo specializzate, sono della famiglia Anguloa e crescono sulle Ande, e sulle Ande verso la fine, quindi verso i tropici in Colombia, e quindi crescono fino a 3.000 metri queste piante qua. La cosa interessante, che vi ripeto ancora, è che è impossibile che qualcuno non trovi un'orchidea, impossibile che qualcuno non piaccia nessuna orchidea, perché sono talmente varie, profumate o no, colori, che è veramente, c'è un intero mondo, sono veramente sviluppatissime. Una manifestazione per tutti, appassionati e non, insomma. Tra l'altro resa possibile grazie al contributo dell'Associazione Lombarda Amatori Orchidee. Sì, quindi la nostra idea, ci siamo trasferiti adesso due anni fa, io e mia moglie, con la nostra collezione di 500 orchidee, e abbiamo deciso che era veramente, per noi era importante far conoscere e diffondere l'amore per le orchidee, e quindi abbiamo cominciato a contattare tutte le entità locali, che abbiamo contattato soprattutto all'Ao, più ci sarà presente anche l'Associazione del Centro Italia e i giudici internazionali italiani. Ecco, dalle 10 alle 18, quindi numerosi espositori nazionali e anche dall'estero, nella sala consigliare di Asso, poi dopo la mostra a mercato, anche il programma della giornata con numerosi eventi, no? Sì, quindi avremo dei talk, quindi delle discussioni, date per i principianti, per esempio su come rinvasare le orchidee, che è una cosa molto importante, visto che non crescono in natura, ma le facciamo crescere su un davanzale, oppure fino a talk più specializzati, appunto, quello su come crescere questa orchidea qua, che è la nostra specializzazione, e quindi è proprio aperto a tutti, quindi all'appassionato e al principiante. E allora diamo appuntamento a domenica 19 giugno, Enrica un ultimo appello? Ecco, vi aspettiamo numerosi per questo evento speciale, vi ricordiamo che l'ingresso è gratuito, potete venire liberamente, senza nessun impegno e anche per curiosare tra le orchidee varie che troverete. C'è anche un sito che invitiamo tutti a consultare? Potete consultare il sito internet www.assoorchideshow.com, dove troverete l'elenco degli espositori e tutte le informazioni riguardanti l'evento. Allora ricordiamolo, domenica 19 giugno ad Asso in Sala Consigliare.